buongiorno Alessandro Sirone sono felice di conoscerti sono Carlotta eh degli Innocenti la collaboratrice di Carla Marchettini eh siamo qui per presentarti nell'ambito del Rave Meditation Festival che si terrà a Narni dal sedici al diciotto settembre e al quale tu sei uno dei nostri uno degli ospiti ehm che ehm avrai terrai un concerto il sabato pomeriggio alle sedici e trenta al Teatro Manini di Narni e il giorno successivo la domenica sarai presente a mezzogiorno per un workshop seminario eh nell'area workshop e sono molto felice di conoscerti e di vederti per la prima volta in video e e avrò modo insomma per tutti coloro anche che ci ascoltano avremo modo di conoscerti anche di persona a Narni questo fine settimana e io devo dire che ti sto scoprendo con lavorando collaborando con Carla ho scoperto il tuo la tua disciplina e la tua attività eh da quello che ho visto dalla tua biografia sei un pianista compositore hai creato composizione hai collaborato nell'ambito del teatro del cinema anche dell'arte facendo delle installazioni musicali e eh ho letto anche che tu hai delle formazioni con la quale registri appunto degli album e mh e poi quello che giustamente arrivando al a quello che è il tema che di di rave meditation che è il festival giustamente delle medicine non convenzionali e delle discipline olistiche sei ideatore proprio di quello che si chiama mh il piano mirroring e della psicoanalogia musicale eh che presenterai a rave e mh sono curiosa insomma innanzitutto se vuoi anche aggiungere qualche cosa alla tua a questo riassunto che ho fatto se ti senti e di aggiungere qualche cosa oppure mh sarei curiosa in realtà di sapere come sei arrivato al piano mirroring perché nasci dalla musica e poi sei arrivato a sviluppare ehm una tecnica e ho visto approcciandosi anche a giudorowski scardovani insomma alcune persona persone di un di una sensibilità e mh evidentemente eh anche tu hai questa sensibilità quindi sono volevo sapere questa cosa va bene intanto ti ti ripongo un saluto Carlotta grazie per questa è un ringraziamento per questa tua intervista che è utile sia per chi magari verrà a Narni sia poi per chi ci ascolta magari anche in futuro e quindi ecco salutiamo tutte le persone che ci ascoltano grazie perché questo è sempre un bel momento per me perché posso dialogare con qualcuno e posso raccontare un lavoro che non è facile da comprendere da fuori quindi queste occasioni sono importanti per me perché posso raccontarmi raccontarlo non aggiungerei un granché su di me hai detto molte cose ehm la sola cosa che forse manca ma la dirò tra due minuti è che oltre ad essere musicista e ad essere un appassionato di scrittura e di poesia quindi una visione politica del mondo e sono da anni appassionato di ricerca ricerca in questi ambiti che io chiamo sapienziali le scienze dello spirito quindi come è nato piano mirroring è nato prima da delle competenze musicali che io ho acquisito per la passione musicale quindi fin da bambino avendo un padre cantautore musicista la musica è stata subito un linguaggio per me fondamentale quindi io sapevo già di fare musicista fin da bambino compositore compositore per il cinema cosa che poi ho fatto è stato un sogno realizzato e quindi direi anche un sorpassato anche se lo faccio ancora mi piace ancora farlo quindi dalla musica poi sono passato ad altre discipline la ricerca interiore che penso che sia una sorta di dogana a cui si arriva a un certo punto però oltrepassare i confini nazionali dell'io e andare poi nei territori appunto dove ci incontriamo su altri livelli questa dogana che tante persone oggi stanno visitando io l'ho affrontata attraverso lo studio di alcune discipline alcuni incontri si parte con i libri si parte con le esperienze con la ricerca interiore con l'intuizione nel mio caso la mia ricerca personale è sfociata nella proposta di una via e e quindi avendo essendo un musicista ma essendo un particolare musicista perché io non ho mai avuto in testa sì sono professionista nella musica ho studiato sono diplomato in pianoforte però come dire la professione musicale mi è sempre stata prima inconsapevolmente oggi consapevolmente un po stretta e cioè non ho mai avuto in realtà la vocazione di andare sul palcoscenico ed esibirmi cosa che ho fatto per tantissime volte però ecco mancava sempre qualcosa quell'esperienza poi ho scoperto cosa mancava mancava un senso della musica che oggi ho trovato quindi fermo restando che la musica vissuta in quel modo è molto bella e quindi lo farò ancora però c'era un però c'era un però che poi oggi ho colmato con l'idea di usare la musica per permettere alle persone di conoscersi e quindi come è nata questa cosa è nata quasi per caso prima io giocavo un po' tra amici a suonicchiare le persone cioè a fare delle macchiette un po' come alcuni pittori per strada sai che fanno le caricature però erano delle caricature con il naso più grosso tipo quelle note scimbiottavo prendendo un po' in giro poi questa cosa è stata fatta per caso devo dire in un ambito terapeutico grazie a Mauro Scardovelli ero ospite suo a fare un seminario in realtà ero lì per anch'io fare un lavoro poi quando ha saputo che io facevo questa cosa la proposta come un'azione da fare però non più come caricatura così tra amici ma per fare un mirroring ovvero un rispecchiamento con la musica lì era un modo molto particolare quando abbiamo scoperto alcune mie facoltà di cui io ne ero totalmente inconsapevole e da lì è scoppiato un caso e quindi ho iniziato a essere poi indipendente Mauro per molte volte mi ha accompagnato mi ha presentato mi ha introdotto in alcuni ambiti e poi io ho costruito una mia strategia che ora è questa quindi guardo le persone negli occhi da seduti senza sapere niente della persona la guardo e questo sguardo comunica delle informazioni io le restituisco nella forma della musica e quindi è nato piano mirroring un rispecchiamento al pianoforte interessante mette un po' in suggestione dico oddio aiuto no no è un è un ramo molto importante perché ultimamente in alcuni paesi so che la musicoterapia è riconosciuta anche in un percorso di riabilitazione sono terapie che comunque sia in ambito medico anche ospedaliero è integrata in un proprio in un percorso ospedaliero e credo che in Italia ancora non lo sia ma so che in Francia nei paesi nord europei applicano questo questa tecnica nello specifico però giustamente il piano mirroring oltrepassa quello che è il piano da quello che intuisco prettamente anche fisico però diciamo dei traumi ma va in una baria va in un altro confine da quello che solo appunto la musica oppure l'arte la creazione può riuscire a tirare fuori e nello specifico quindi in che cosa consiste cioè fai un seminario in quanto dura la pratica che cosa se c'è anche delle sessioni che devono essere risviluppate rifatte se ci sono varie prego grazie tutti un tema importante la musicoterapia voglio sciogliere un equivoco in due minuti così ascolta mi sa collocare bene non fa confusione allora la musicoterapia rientra nell'ambito delle terapie appunto chiamate ufficiali dove una figura si prepara per affrontare alcuni alcune problematiche alcune patologie ecco io non sono in questa categoria di operatori ovvero io non mi occupo delle patologie per cui mi occupo di persone considerate cosiddette tra mille virgolette normali sane questa parola che in realtà forse nessuno è sano e tutti lo sono ecco insomma diciamo che non rientro in questa categoria in cui la persona ad esempio con delle forme di magari di autismo o altre patologie che la musica sicuramente può aiutare tantissimo anzi è un privilegiato perché attraverso melodie ritmi e la relazione con l'operatore e quindi un linguaggio che non è verbale si può arrivare a delle cose meravigliose io però non sono in quest'ambito la mia terapia termine che io non uso ma lo uso qui per appunto per scioglierlo è una terapia della conoscenza ovvero il mio scopo non è superare un trauma anche se poi può avvenire questo in modo che poi mai rispiegherò e non è neanche come dire riportare il paziente a una dimensione sociale che è uno degli scopi della musicoterapia cioè portarlo a dimensioni di normalità comunicativa più tanti altri scopi che ora non sto qui annunciare che non è il tema a questo ecco io per terapia qui intendo una cosa molto particolare ovvero la guarigione da quella malattia che io chiamo l'ignoranza di sé l'ignoranza dove quella parolina sé vuol dire tutto quell'io che noi di noi non conosciamo quindi la musica per come la uso io va a iniziare una guarigione dalla malattia chiamata ignoranza di sé per cui tutte le persone che si rendono conto che già questa è una grande forma già di piccola guarigione si rendono conto di ignorare delle parti di sé possono attraverso il mio lavoro incominciare un momento di scoperta che avviene in vari passaggi mi hai chiesto questo ora provo a risponderti in modo così certo allora il primo passaggio che la persona compie con me lo può svolgere o in studio in osservazione individuale o nelle incontri pubblici che faremo a Narni il sabato 16 dove appunto io nelle performance pubbliche faccio provare alcune esperienze alle persone oppure nei seminari in ogni caso la pratica con cui io inizio questo scambio è il mirroring ovvero io guardo negli occhi la persona singola che si siede davanti a me entro in un contatto che ha un contatto empatico ma è anche un contatto dell'intelletto cioè la persona diventa intellegibile secondo certi codici e io incomincio a tradurre quello che vedo che penso che credo di vedere poi insomma su qua ci sarebbe mille parentesi vedere i filtri e poi incomincio a gettare a gettare innanzi alla persona delle onde musicali delle melodie dei ritmi questa persona è obbligata è obbligata cioè noi non possiamo non ascoltare è obbligata a ricevere questa musica si può alzare ma sul piano sensoriale è obbligata a ascoltare ed è obbligata a riconoscerci per certi versi nella musica quindi qualsiasi musica in che modo ci rispecchia nel mio caso però la musica viene fatta al momento sulle reazioni della persona e sulla sua fisionomia sul suo carattere che comunque è palese rispetto a come si comporta come si come parla come si presenta ecco questa restituzione è già un grandissimo atto di conoscenza perché la persona si sente si sente attraverso un'immagine musicale ed è obbligata a prendere atto che in ogni caso le emozioni che prova sono sue perché il fastidio la commozione il dolore il ricordo che la musica evoca le immagini sono della persona al punto che io posso suonare una musica identica poniamo beethoven e otto persone hanno otto immagini diverse otto emozioni diverse otto reazioni diverse questo perché la musica va in risonanza con l'io dell'individuo un io che è cosciente ma che soprattutto inconscio quindi in realtà mi azzardo questa definizione la musica è uno degli strumenti più importanti per mettere in collegamento la parte conscia con la parte inconscia a questo punto proseguo in questa mia racconto tu puoi interrompimi se vedi che esondo io vado sì io prendo appunti a questo punto nasce la domanda su che cosa sono le emozioni e la mia risposta qui che do a chi ci ascolta e che la do come come dire come spunto di riflessione poi ci serve di argomentare molto è che in realtà la musica non emoziona mai questo potrebbe succedere sorpresa le persone come la musica non emoziona mai mi emoziono sempre con la musica sì ma in realtà non è la musica che ti emoziona l'emozione viene prodotta da un'immagine che tu hai dentro per immagine intendo uno scenario psichico potrebbe essere una ferita che però assume le forme di immagini di scenari ad esempio quando noi sogniamo sogniamo immagini scenari situazioni ecco la musica va a contattare quelle situazioni quando noi ascoltiamo musica non ce ne accorgiamo ma è come se la musica ci facesse sognare nel senso onirico del termine cioè la musica ci mette in contatto con la sfera onirica è il contattare quel sogno che ci produce un'emozione non la musica infatti alcune persone su certe musiche non si emozionano non è la musica che meccanicamente ci fa emozionare la musica va a toccare uno scenario ed è il contatto con quello scenario che ci emoziona per cui faccio un esempio rapidissimo se dentro di me io porto un bambino chiuso in una stanza e la musica sincronicamente simpaticamente cioè simpato stesso sentire se la musica va a contattare quella mia immagine io piango ma non piango a causa della musica ma a causa di quel bambino che era inchiuso in quella stanza è un'immagine simbolica però il mio inconscio me la porta con quell'immagine lì poi quel bimbo c'è c'è ben altro che un bambino c'è un simbolo molto più slegato dalla biografia non è il mio bambino non sono io da piccolo sì perché tu ah no perché tu parli anche dei simboli che ti abitano ho visto quindi è di questo che tu cioè quel bambino è il simbolo che ti abita sarebbe quello un'immagine simbolica che non per forza un'immagine biografica non per forza a me hanno chiuso in una stanza però magari io luigi tu luisa porta immagine porta nell'inconscio un'immagine che si raffigura con quell'immagine lì ecco questo per dire ma non mi dilungo su questo che ci potrei fare una tesi la musica ha il dono e forse per questo che l'umano diciamo inventa la musica o si accorge della sua potenza perché la musica lo mette in contatto con quelli scenari inconsci ora se noi togliamo la parola inconscio e usiamo la parola divino dove per inconscio potremmo chiamare il divino ora la musica ci mette in contatto con il divino e se il divino è abitato da angeli e demoni ovvero se l'inconscio è abitato da immagini positivi o immagini negativi ecco che lì la musica fa da ponte tra i nostri angeli e i nostri demoni questo è il linguaggio arcaico probabilmente le tribù le storiche ma anche le civiltà un po più arcaiche usano la musica per mettersi in contatto con angeli e demoni oggi noi diremmo che la musica ci mette in contatto con i nostri contenuti inconsci negativi e positivi la musica in questa in questa accezione per cui fare mirroring mi permette di entrare in contatto con la persona e farle uscire le immagini però poi non basta non basta perché durante un'azione individuale io non mi faccio carico di quelle immagini e diciamo che la modalità che uso per far uscire quelle immagini è una modalità molto soft per cui la persona forse non si accorge di quelle immagini ma vive le emozioni nei seminari invece che dono due giorni lì c'è un patto esplicito con la persona siamo qui per fare un lavoro di profondità per cui a quel punto a quel punto io ho ideato ho costruito strutturato una strategia con la quale è possibile andare in questa stanza oscura chiamata inconscio dove generalmente l'io non va perché non vede o ha paura e con la musica è possibile andare a contattare quelle immagini che ti abitano farle uscire è come se la musica in qualche modo le andasse a andasse a aprire dei cassetti ecco l'immagine è questa una mano che è la musica che entra dolcemente nell'inconscio e apre un cassettino ora non è un'operazione forzata non è una mano che apre un cassetto anche se l'inconscio non vuole assolutamente anzi è l'inconscio che sfrutta la musica per dire oggi apriamo quel cassetto lì per cui la musica entra nella nella psiche dell'individuo e poi è lo stesso inconscio che riconosce nella musica un veicolo sul quale porgere la risposta a questo punto la musica si trasforma in una sostanza conoscitiva io la chiamo oracolare perché a questo punto la musica può andare a rispondere a delle domande inconscie che ho porto dentro sul come funziona questo sistema forse non è qui il luogo per per raccontarlo beh è fascinante direi è una scoperta sicuramente è una scoperta è una scoperta sia operativa ma poi anche una scoperta da annunciare ecco forse non è ecco in questo senso mi faccio un po' profetico non mistico ma nel senso come dire di colui che annuncia un qualcosa che forse non è stato mai detto in modo così chiaro dove la musica certo la musica è una cosa molto bella che ci serve per passare dei bei momenti per alleviare un dolore perché ci rievoca dei bei ricordi ma probabilmente soprattutto la musica è una sostanza conoscitiva quindi l'annuncio è questo attenzione attenzione non per un pericolo ma attenzione che la musica in realtà porta in sé un dono molto più grande di quello che noi conosciamo e attenzione qui invece in chiave precauzionale perché la musica andando a contattare l'inconscio è attenzione alla musica che ascoltiamo a quanto la ascoltiamo a quanto inconsapevolmente ascoltiamo la musica noi oggi siamo bombardati dalla musica ecco se mi permetti vorrei citare una cosa di Jung lo trovate su un libro di interviste che gli hanno fatto ecco un giorno una pianista andò a trovarlo lo racconto perché spiega bene questo e insomma la fonte autorevole Jung è uno dei più grandi conoscitori della psiche umana ecco un giorno una pianista andò da Jung a propogli la musica come strumento di dialogo con la psiche e chiese a Jung ma lei conosce la musica? Jung rispose sì la conosco bene Jung è una persona molto colta siamo poi svizzero quindi la cultura germanica ha comunque svizzero ha una cultura molto forte della musica la conosco bene disse Jung però mi dà fastidio non vado ai concerti come disse la pianista ma Jung insomma argomentò bene e disse siccome conosco la potenza della musica e ho capito anche se non ho capito bene dice lui non sono un esperto in queste cose non ho ancora capito in essi tra musica e psiche anzi appunto mi interesserà molto alla fine dirà alla fine intervista la musica andrà introdotta in tutte le terapie assolutamente perché dice perché io ho colto non ho compreso ho colto che la musica va a contattare le mie profondità a questo punto non vado a un concerto a caso da un pianista a caso spesso inconsapevole che lui mentre suona la sua musica non si rende conto ma mi sta manipolando l'inconscio me ne guardo bene diceva ecco questa sua riflessione io la colgo e la pongo come una una polemica chiaramente una polemica nel senso costruttiva sì nel senso per di consapevolezza sì per essere una polemica emotiva mia è una polemica filosofica cioè pongo questa polemica a tutti i musicisti che oggi suonano si esprimono ecco la musica in realtà mentre noi ci esprimiamo sta andando a toccare l'inconscio quindi avremmo una grande responsabilità un tempo sai la musicista era il sacerdote ecco lo sciamano era musicista il musicista è sempre sciamano intendo con questo non una persona che con il tamburo e le piume in testa con questa un po' l'iconografia ma è colui che fa da ponte tra l'io e l'inconscio tra l'io e il divino tra l'umano e il dio tra la terra e il cielo lo sciamano è il ponte lo sciamano è il musicista il musicista è lo sciamano e devo dire che questa relazione sciamanica il musicista l'ha persa oggi il musicista è un qualcuno in generale parlo chiaramente senza che non si offenda ma oggi la figura dell'artista è una figura che si esprime ma non si pone assolutamente questo questo problema dell'essere ponte devo dire che appunto il mio lavoro in realtà è tutto su questo le mie performance in realtà sono delle grandi cerimonie travestite da concerti quindi appunto ci si veste normalmente si va a un concerto però senza quasi che se ne si accorghi in realtà si entra nella dimensione di rito catartico cioè l'antica cioè a livello di teatro c'era proprio questa catarsi questo aspetto che era non mi ricordo se era ristro parlava proprio anche nel teatro stesso che era catartico cioè che era un rituale in cui comunque sia le persone attraversavano un percorso che può essere anche di purificazione cioè di quello che uno va di se stessi no e quindi il teatro propone lo specchio esatto cosa andiamo a fare teatro andiamo a vederci noi pensiamo di andare a vedere andiamo a vederci quindi quando noi assistiamo a un omicidio a un tradimento a un dolore a una gioia a una perdita in realtà ecco che l'evento teatrale è un mirroring io sto vedendo e quell'evento è obbligato ad aprirmi dei cassetti certo la musica in questo senso è ancora più potente perché è più sottile perché non parla mai di eventi chiari ad esempio in shakespeare questa cosa è chiarissima quando amleto e scogita il tranello per scoprire se la madre ha tramato col suo marito l'omicidio di suo padre cosa 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 fa come tranello dice io adesso organizzo al castello una messa in scena in cui una regina uccide il marito con l'amante come come e quando quando amleto propone questa cosa che fa cosa dice guarderò mia mamma se si emoziona vedendo la tragedia l'evento vuol dire che lei in realtà è colpevole infatti quando lui propone questa scena la madre arrossisce ecco l'emozione lei non si emoziona per causa del teatro ma perché lei porta dentro un evento in questo caso di cui quel teatro ne è specchio nel mio caso è uguale io sono un amleto che ha elaborato una strategia e non ti propongo un evento come dire biografico il tradimento l'omicidio ti propongo una musica al che tu sei obbligata in qualche modo ad arrossire cioè ad emozionarti se è vero quindi tutte le volte che ti emozioni è perché la musica ti ha toccato questo accade sempre a teatro ai concerti nel mio caso accade in un modo consapevole e io sono lì ad assistere a questo processo e non solo ti propongo una musica ma capito che questa musica ti tocca allora incomincio a operare in questo senso quindi ti faccio vedere quella stanza ti faccio vedere che qua stanza ha alcuni immobili quindi la telecamera trovata la stanza in qualche modo io sono un operatore che ti fa vedere no cosa c'è in quella stanza e ti porto in modo molto dolce non è mai un ti butto in quella stanza e ti mostro il mostro anche perché se quel mostro è troppo mostruoso tu non vedi niente molte persone davanti a una musica che gli indurrebbe a vedere qualcosa di molto negativo si bloccano non si non si emozionano ecco chi non si emoziona in generale è perché è troppo potente l'immagine del mondo che va a contattare il mio incontro e quindi il non emozionarmi è una protezione in questo senso molto utile e molto intelligente fino a quando non si trovano sistemi per riuscire ad affrontare quel tema la musica nel mio caso è un modo molto dolce ecco non c'è da pensare come pensano oh dio andrò lì e questo qua mi scatena i demoni no immagino anche perché da quello che ho capito io diciamo sono un po' profana però diciamo sono molto interessata a questo a questi campi a questi ambiti oramai da diversi anni quindi diciamo a volte non ho le parole tecniche o specifiche però se ho capito bene la musica cioè lavora su anche dei campi sottili che non sono visibili quindi come può essere il teatro eccetera ma vanno su vibrazioni frequenze quindi sonorità che sono anche lo stesso corpo emana questo tipo di frequenze non lo so magari sbaglio però giustamente ognuno di noi ha un potrebbe avere un suono una sonorità che può essere anche legata anche quando uno nasce no sta nel grembo materno posso immaginare senti rumori quindi sicuramente è collegato cioè è qualcosa di arcaico che ci appartiene che appartiene all'uomo anche il fatto che quindi posso immaginare che questa disciplina riesca giustamente a come dici tu a arrivare senza anche ferire la persona perché giustamente siamo ci sono sia ferite psicologiche psichiatriche poi patologie però c'è anche ferite si chiama anche ferite delle dell'anima no che uno si porta avanti anche negli anni quindi posso immaginare che questo aspetto sia molto più soft per cui non no e ci rende un'immagine di noi che riusciamo piano piano a a rimuovere nel processo della psicologia no la rimozione però quindi questo è anche qualcosa che ci riporta quindi a un aspetto anche primordiale no della persona no del proprio dell'essere che è qualcosa che va al di là del ruolo sociale quindi le maschere che uno si mette per confrontarsi con l'altro quindi abbatte determinati muri perché arriva direttamente con un canale che non è quello classico del linguaggio della comunicazione anche gestuale o che che sia e questo aspetto quindi ci sono due elementi che volevo un attimino capire da questo punto di vista sia quello che è che l'avevo accennato prima che è i simboli che ti abitano che mi aveva incuriosito questa cosa lo ammetto e l'altro aspetto è quello della manipolazione che giustamente io personalmente mi sento sono un amante della musica per carità tutti i generi uno esplora musica classica però devo dire che ultimamente ho notato a parte questo bombardamento ovunque tu entri c'è musica quindi c'è lo stordimento cioè crea un effetto di stordimento totale e poi ho notato che negli ultimi 30 anni credo anni 90 cioè non ci sia stata un'evoluzione poi della musica c'è un reiterare le stesse sonorità per cui è proprio un rimanere ristagnanti un po' imprigionati da questo e quindi questo aspetto della manipolazione cioè anche questo è importante diffonderlo perché in maniera che le persone siano anche accorte su quello che ci sta capitando perché se io sono inconsapevole no e divento nervoso ad un tratto inizio ad andare che ne so uno poi dice una cosa che non vorrebbe dire né avrebbe né ha senso no e sicuramente ci sono elementi che in realtà non mi appartengono in questo no oppure perché è possibile che io abbia delle reazioni determinate da dei suoni che in realtà che possono in realtà provocare delle reazioni che non non fanno parte di me oppure è proprio è sempre quel mostro che sta lì celato hai fatto un lungo racconto con una valanga di temi su cui bisogna stare un paio d'ore su ciascuno di temi che parto dal fondo provo a provo a fare una traiettoria per fare una sintesi allora nel mio ambito perché poi appunto adesso chiarisco alcuni punti sì c'è la musica c'è l'esperienza del mirroring ma in realtà alle spalle c'è una visione sapienziale filosofica per i miei seminari io tutta la mattina del sabato che è il primo giorno si fa nel weekend del seminario faccio almeno tre quattro ore di filosofia sapienziale per capire cosa stiamo di cosa stiamo parlando sai tante persone vengono ai seminari con tutto questo marasma no tu cosa hai fatto adesso hai hai portato fuori tante voci le frequenze le vibrazioni la musica la manipolazione del mondo ma mi riguarda non mi riguarda ma mi sta manipolando oppure no ma sono io o è da fuori tutte queste domande non può rispondere alla musica domanda ma deve rispondere una visione sapienziale ora quando c'è il tempo di fare una sintesi questa visione anche perché una sintesi sarebbe come ucciderla però appunto io parto da dei presupposti primo presupposto che non è in ordine ma uso le tue urgenze è impensabile che qualcosa che non mi appartenga mi risuoni cioè impensabile che un evento esterno se non va a toccare qualcosa che già è mio mi risuoni non esiste che qualcuno da fuori mi fa star male fa star male perché da fuori me lo produce se io ascolto una musica e in qualche modo mi nervosisco mi fa arrabbiare non la sopporto mi fa piangere non è mi fa piangere appunto non è mai la musica l'emozione è una reazione a qualcosa che ho già dentro per cui ogni reazione interna prevede che appunto l'esterno non sia la causa ma l'attivatore non è produttore ma è attivatore quindi non esiste in questa visione poi bisogna capire bene in che senso ma questo in che senso è troppo complicato non c'è colpa ecco non è che è colpa mia è che questa cosa mi tocca poniamo che io qui abbia un livido o una persona mi tocca mi fa male sì certo che mi fa male però è la relazione che mi fa male non il suo dito o la mia ferita se nessuno mi tocca la ferita io non ho male se nessuno mi tocca io non ho male ma la relazione produce che quel tocco che è un semplice tocco che qui non fa nulla qui mi fa saltare i nervi perché c'ho un livido o una ferita poi sui fastidi è un'altra cosa è chiaro che se prendono mi legano su una sedia e mi bombardano di musica è chiaro che è dannoso il punto è perché mi hanno preso mi hanno legato chi mi ha ma questo è impensabile è una teoria che non è un'ipotesi appunto certo di fatto la musica ha questa valenza sull'inconscio ora sul perché la civiltà occidentale che ormai è la civiltà del mondo è il mondo sul perché ci bombardi con la musica andrebbe trattato a parte sul perché questa esigenza e qui subentrerebbe una visione analogica simbolica cioè a ecco psicologia analogica dal punto di vista ogni evento anche del mondo collettivo deve sempre raccontarci un processo che sta accadendo nelle profondità dell'inconscio cioè non è che le cose sono a caso non è che qualcuno decide che nei negozi bisogna metterlo vuol dire che nell'inconscio collettivo c'è un'esigenza o di portare fuori un contenuto un bisogno o al contrario di mostrare una malattia che è sempre stata dentro e che ora si manifesta noi siamo e lo dico tra parentesi questa cosa qua siamo in un'epoca che io definisco esoterica ovvero dove tutto quello che è sempre rimasto inconscio deve uscire non che deve ma emerge noi siamo nell'epoca in cui tutto si esteriorizza quindi è chiaro che noi siamo sempre stati abitati da un costante suono continuo mille anni fa l'uomo o la donna avevano una costante radio accesa in testa pensieri considerazioni e che non lo sentiva oggi noi abbiamo in quest'epoca esoterica a livello simbolico la civiltà sta mostrando quello che è sempre stato nascosto nella psico umana e cioè noi abbiamo sempre avuto un volume alto di rumore finalmente lo vediamo questo non basta non basta dire finalmente lo vediamo e il punto è non come mettere a tacere le musiche nei negozi le musiche sui mercati in ristoranti ma come mettere a tacere quel suono che è un suono mentale di cui la musica esterna ne è simbolo ne è incarnatore simbolico ma su questo apriremo una conferenza beh oddio merito invece alle frequenze sul corpo questo è un territorio molto scivoloso io non ne parlo in genere non lo tocco perché a mio avviso il corpo è sano e santo e il corpo non va toccato se non in termini non so da un bravo chirurgo se devi fare un'operazione certo appuntino sono un medico se la musica diventa una sostanza che ha a fare con il corpo si entra in ambito scientifico allora lì serve il rigore dell'esperimento è vero che il do che mi che fa mi fa fare alle mie cellule questa cosa qua lì siamo lontani da questa cosa qua e a mio avviso non è lo scopo della musica non è questo il punto quindi mi allontano direi quasi categoricamente da tutte le visioni della frequenza le cellule a mio avviso non ha questo perché non mi ricordo che cos'è mi senti sì ah cos'è la scimatica che c'è quelle cose con che ne so si sentono rumori e c'è che ne so l'acqua che fa delle cristalli che si stavo arrivando ci stavo arrivando ok stavo arrivando allora la cimatica cosa ci racconta come l'esperimento la cimatica diciamolo per chi non lo conosce c'è una lastra di metallo in genere che viene molto bene sulla quale viene messa su della polvere di copodium lo puoi anche fare in casa con la farina con lo zucchero con tutto sotto c'è un alto parlante su cui viene immesso un suono un do un re un mi una frequenza musicale una frequenza vuol dire una nota musicale una frequenza è una nota un do un re un mi non importa la che tipo di frequenza quando la la frequenza incomincia a interagire con la lastra la lastra vibra vibra in un certo modo perché la frequenza do vibra in un certo modo con la frequenza va a ridisporre la polvere secondo delle forme geometriche ok ma anche se io faccio questo toc 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 spinge la sabbia a muoversi ok è molto bello da vedere perché sembra una magia io cambio la nota e un esangolo diventa un ottagono un quadrato un cerchio forme che assomigliano non so a quelle forme che sono nei cerchi dei grano oppure a geometria ai mandala no ecco ma non deve ingannare non deve ingannare questo esperimento dove l'inganno un po ingenuo è che è verissimo questo fenomeno ma è un fenomeno rappresentativo cosa vuol dire deve rappresentare quello che già accade internamente mi spiego bene la polvere che viene messa sulla lastra è una polvere che non ha un'intelligenza intrinseca i granelli di polvere non sono in comunicazione intelligente sono ognuno scissi per i cavoli loro a un certo punto questa scissione trova una voce che li raggruppa in un'unificazione un'intelligenza che è il suono che dà forma alla materia inerte informe è un archetipo è il caos originario che trova un verbo un logos che dà senso a questo caos originario ma il corpo umano qualsiasi corpo vivo essendo vivo ha già un'intelligenza che dà forma quindi non vale l'idea che se io mi metto un do qui il mio corpo si sta forma in un ottagono perché non vale perché il tuo corpo è già una forma informata non dalla musica che è metafora ma da un'intelligenza di cui la musica ne è specchio rappresentativo per cui quel giochino ci ricorda come avviene la vita la vita viene che attraverso un caos di cellule arriva un'intelligenza e produce una forma che può essere una forma umana il coniglio il cavallo la rosa la farfalla ogni forma è materia musicata perché ogni forma è a cellule informi che vengono tenuti insieme da una sostanza unificante che è l'intelligenza che è la musica la musica però la rappresenta ora questo non vuol dire che se io prendo un do e me lo metto sul petto questa cosa mi modificherà le cellule si può modificare temporaneamente una struttura ma tolta la musica la mia configurazione torna a essere quella di prima per cui io sì tu mi fai ridere poniamo no un quarto d'ora io torno depresso mi hai fatto sorridere mi hai configurato un sorriso ma poi la mia struttura mentale torna a essere depressa ho capito e per fortuna che è così se bastasse un do a modificarci un do ti annienterebbe ti trasformerebbe in luigi ti dissolverebbe nulla per fortuna che la musica non ha questo potere certo sulla materia inerte la musica ha un potere enorme al punto che la usano per far esplodere le cose ah sì vero verissimo assolutamente questi esperimenti vengono fatti su alcune cellule staminali che non hanno un'informazione sai no sono cellule che non hanno un'informazione precisa non sono cellule di polmone possono diventare qualsiasi cosa eh ma non è lì il punto e poi attenzione un conto è la potenza del suono e un conto è la potenza della musica io uso la musica non il suono è chiaro che uso i suoni perché non c'è musica non il suono ma non è il suono che mi interessa io non ti dirigo un do per annullarti un trauma per toglierti il dolore dalla gamba lì entriamo in un campo scientifico ma non è ancora dimostrato e non è lì il punto anzi qua io direi addirittura una cosa che va non solo a sfavore ma contro guai a usare la musica per farmi passare un dolore al ginocchio perché sarebbe un tentativo esterno di interferire con un processo interno intelligentissimo il male al ginocchio è una reazione del corpo che ha un senso ora se io vado a toglierla con l'antidolorifico musicale non faccio altro che usare una sostanza antidolorifica al posto di un'altra allora cosa cambia se prendere l'aulin o la musica a questo punto non cambia nulla meglio l'aulin che funziona che è studiato che la musica no allora trasformare la musica in un antidolorifico è un sacrilegio sacrilegio per due motivi perché si usa la musica per ciò che non ha non ha come suo scopo e poi vado a interferire con qualcosa che è sacro che va tutelato in ambito medico va in tutt'altro modo se no diventa una new age un olismo buttato lì su cui ci sarebbe da dire molto eh ci sarebbe da aprire una polemica importante filosofica su come stiamo un po giochicchiando con queste cose ma il mio lavoro è un altro allora si parli di frequenze psichiche ma sì sono i pensieri sono frequenze sono configurazioni la musica può interferire con quel pensiero però attenzione anche lì se sono triste e ascolto la musica danzante sì per un attimo posso sorridere ma poi torno lì chi va in discoteca per uscire dal vuoto quando poi torna a casa è ancora più nel vuoto punto numero uno secondo punto lo scopo mio non è entrare in quella depressione e opporsi con un'opposizione il mio lavoro omeopatico tra virgolette il simile cura simile per cui ecco perché lo specchio ti cura il depresso è quando ascolta musiche depresse che paradossalmente ha una possibilità di di scioglierlo quel depresso fai sentire la musica allegra ma si incazza ancora di più va ancora più giù per questo che le commedie spesso hanno hanno un ruolo negativo perché ti fanno vedere un mondo felice tu hai una vita non così felice vai ancora più giù quindi devo stare attenti a usare queste sostanze no esco per divertirmi dove quel divertere vuol dire scindermi e no la sapienza non deve scindere deve divertire deve unificare sai no quel termine complicato che è la cultura religiosa lo racconto come il termine di diavolo no che in realtà è di aballen il diabolos che vuol dire dividere ecco il divertimento per certi versi chiaramente non che sia così ma il divertire con lo scopo di non sentire il dolore è diabolico ora se la musica deve divertirmi per non farmi si del dolore è un uso diabolico della musica ho fatto un giro di parole per arrivare a un punto quindi è tutto un altro mio lavoro è un lavoro di conoscenza di mostrarmi non di cambiarmi io non devo cambiare nessuno tu non devi cambiare questo devi lo usiamo tra virgolette il punto è conoscere mettere in luce la musica è una sostanza conoscitiva non trasformativa perché il suono ha il potere di bruciare il dolore non è questo il mio lavoro anche perché appunto usando una sapienza alle spalle mi viene come dire quasi proibito di interferire con il tuo processo interiore è una delle prime regole se non si so benissimo nessuno può interferire in ambito sciamanico curativo ecco a quel punto il sintomo fisico lo mettiamo nelle mani delle figure competenti dottori che hanno una grande scienza che la medicina grande scienza sebbene con tutta una serie di limiti di opinioni diverse anzi citerei a dire una cosa la medicina sappiamo è un'arte non una scienza non ha la potenza della scienza forte che hanno altre scienze però è un'arte con centinaia di anni di storia al punto che oggi noi guariamo delle malattie o come dire assistiamo al sintomo il mio lavoro è quello di portare alla luce le motivazioni inconsce per le quali eventualmente il ginocchio poi denuncia il sintomo è tutto un altro lavoro e in questi territori inconsci la scienza non può arrivare per definizione la scienza è scienza perché si occupa della materia cioè delle cose esterne delle cose interne la scienza non ne sa nulla ti faccio un esempio sul fatto che luigi quando entra in casa si sente soffocare la scienza non può fare nulla perché non è ossigeno non è che il polmone ha una relazione con il non ossigeno c'è l'ossigeno il problema interno ed è psicologico ma anche no ma su questo si non riguarda solo luigi in quanto rapporto con casa sua ma qualcosa di di più recondito con una casa interiore che è simbolo il mio seminario oltre a chiarire tutti questi punti in chiave teorica perché io ci tengo che chi lavori con me abbia un vocabolario con cui discutere se no io sono qualcuno che fa e l'altro è la sostanza inerte che subisce il mio lavoro assolutamente è una relazione quindi intanto io faccio questo e poi si va a lavorare su dei quesiti quindi ai miei seminari le persone portano dei temi di vita in genere sette argomenti per vari motivi 5 6 7 che sono segretissimi nessuno li saprà mai e su questi temi si incomincia a porre delle domande all'inconscio per quale motivo casa mia mi soffoca per quale motivo il mio lavoro non mi piace ma non riesco a cambiarlo per quale motivo non riesco a vendere la casa dei genitori che è 30 anni che la scienza direbbe che non riesce a venderla perché c'è il mercato la difficoltà economica il momento storico sì scienze economiche in questo caso nel mio caso direi che sì è vero c'è il mercato c'è la guerra ma c'è anche una componente per azione relazione inconscia le cose accadono all'esterno come all'interno quindi se non riesce a vendere questo cambiare lavoro fidanzato figli c'è sì una condizione esterna ma non basta a raccontare le cause profonde c'è sempre una relazione che riguarda l'inconscio al punto e chiudo che la frase che in qualche modo riassume del mio lavoro non con la musica ma sul piano psico analogico è il mondo che hai davanti è il tuo inconscio rivelato questa frase una frase che andrebbe supportata quindi il mondo che hai davanti non il mondo non gli alberi il mondo che hai davanti che tu incontri nel tuo quotidiano il tuo mondo che hai davanti le tue relazioni le tue percezioni se tu abiti a milano non milano la tua milano è l'inconscio che si rivela certo la visione certo il tuo rapporto con il pianoforte con tuo compagno con tua figlia con tuo figlio con la tua casa il tuo rapporto lo specchio di quel mondo e l'emozione è la sentinella che mi indica che è vero che dove mi emoziono ci sono io dove c'è emozione c'è l'io se una cosa mi emoziona mi riguarda e quindi se mi emoziona quella cosa è specchio del mio inconscio ma sullo specchio è siccome un'arte non basta dire questa cosa mi riguarda mi appartiene non basta come spesso si senti in giro no se ti arrabbi è perché è un problema tuo grazie ma devo risolvere adesso che spesso è paracula no cioè io ti faccio arrabbiare ma è un problema tuo sì certo va bene è un'arte e gigantesca di capire in che senso mi riguarda in quale funzione mi riguarda cos'è la casa cos'è il marito cos'è la moglie l'automobile che simbolo è allora lì incominciamo a fare un discorso importante quindi io ho due lavori il primo lavoro musicale è un lavoro analogico i due lavori quando si incontrano producono una via più chiamato psicoanalogia musicale che parte con i seminari con le esperienze come faremo a Narni in due ore in cui io racconto il mio lavoro ma poi può diventare veramente una via di conoscenza dove attraverso questa musica che ai seminari porta fuori le informazioni è capito in due giorni su sette temi portiamo fuori una valanga di informazioni che poi vanno viste nel tempo io poi seguo le persone nel tempo e le accompagno in questa loro scoperta mi faccio sia prima mi faccio estrattore del simbolo legato alla casa al compagno bla 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 e poi mi faccio il traduttore del simbolo in un processo che qua è in raccontabile però ci sono varie persone che lo raccontano testimonianze quindi ecco non ne posso parlare io questa cosa sta dando degli effetti molto eh no in effetti una delle ultime domande era proprio quello se tu hai avuto delle testimonianze di persone che giustamente eh vabbè dici se quali sono alcune testimonianze che ti hanno dato veramente che ti hanno incoraggiato o testimonianze belle che magari vuoi dire o ti fa piacere ricordare sono nove anni che faccio seminari quindi nove anni che poi seguo le persone quindi se in nove anni continuo a seguire le persone probabilmente vuol dire che funziona che è probabile o c'è uno che c'è uno scusa non ho capito bene o siamo tutti matti è probabile o ce la raccontiamo oppure c'è c'è un valore e allora le testimonianze io ne ho di tre tipi testimonianze ho quelle che fanno le persone quando fanno con me il mirroring che dura cinque minuti un quarto d'ora venti minuti e tutte pubbliche su youtube chiaramente io non continuo a mettere video molto simili perché mi ripeterei lascio quelli che sono vuol dire che sono esemplari ecco testimonianze sul mirroring è sempre intanto la sorpresa cioè la persona non si aspetta che quell'esperienza sarà di quel tipo lì anche lo scettico anche in genere i maschi sono un po più chiusini in genere non è per forza vero però in genere anche il maschio che viene regalato dalla moglie è tipico no quando fanno i regali la moglie magari lo regala al marito anche la figura è un cliché lo uso un po così con non si offendono gli uomini quel cliché anche quell'immagine lì quando siete sulla sedia poi viene suonata generalmente si stupisce non si aspettava una cosa del genere quindi c'è la sorpresa perché si sorprende è perché viene messo in contatto con una forza che è la musica che è capace di smuovere e quindi sempre molto positiva l'esperienza anche il pianto non è mai un pianto di disperazione è un pianto di liberazione e quindi tante testimonianze ora non faccio una non voglio citare nulla non mi ricordo a memoria però ci sono quelle scritte quelle video sul sito è pieno poi c'è chi invece fa i seminari e anche lì sorpresa perché non ci si aspetta un lavoro così molti si chiedono sì vabbè ma cosa c'entra la musica con i lavori su di me e appunto quando arriva lì c'è la grande sorpresa per l'impalcatura filosofica quindi molti non si aspettano questa impalcatura millenaria filosofica a cui io tengo molto perché diamo un senso al lavoro e poi c'è la sorpresa di vedere come la musica può veramente portare fuori una valanga di informazioni come la musica può creare delle delle sincronicità pazzesche tra le persone tra i miei temi e quindi è una è un sorpresa enorme tante persone dicono che dopo i seminari c'è un cambio c'è un cambio spesso è temporaneo che produrre anche dei mesi e poi c'è proprio un cambio un cambio di prospettiva la terza tipologia di testimonianze è di chi ha fatto invece le letture dopo i seminari cioè il lavoro dopo lì non ci sono alcune cose pubbliche ma in realtà lì avviene ogni volta che ci incontriamo tutte le volte che colpiamo una una sessione siamo meravigliati dal vedere no come questo processo sta sta dando aiuto alla persona ma sono cose che ci diciamo internos tra di noi certamente però insomma ho visto delle persone proprio nel giro di pochi mesi lo posso dire intanto eh chiunque potrebbe smentire ho visto persone veramente avere delle bellissime aperture delle comprensioni ecco la musica deve portarci alla comprensione tutto il mio lavoro è per far scattare un click che riguarda la comprensione perché potrei riassumere in sintesi con eh la guarigione è l'interrompere le false narrazioni su tutta la mia vita per incominciare con delle altre narrazioni ma che sono più congrue a ciò che sta veramente accadendo tra me e il mondo questa è la grande sintesi in questo senso il mio lavoro vedo che è molto utile molto illuminante beh sì beh dai ovviamente susciti curiosità e desiderio anche di sperimentarlo quindi e ma quindi sicuramente a Narni ci sarà questa opportunità eh se non sbaglio quindi il diciassette col concerto e il diciassette settembre alle quattro e mezza e poi successivamente con un workshop di domenica a mezzogiorno e ehm in se no altrimenti tu dove eh lavori principalmente? O io faccio in tutta la faccio dei seminari ah in tutta la faccio in genere in zone più raggiungibili vado meno al sud eh ma per questioni più logistiche per adesso però anche lì sono stato vado su su Milano soprattutto faccio molti seminari beh c'è stato il covid che per due anni ha in qualche modo ha chiuso tutto ora stiamo lentamente riaprendo perché sì si possono fare ma c'è anche un'inerzia delle persone che hanno un po' eh devono un po' riprendere sono un po' arrugginite per cui farò un seminario a Torino adesso siamo nel 2022 lo dico perché ci ascolterà tra dieci anni quel video l'estate del 2022 settembre 22 quindi farò a ottobre del 2022 un seminario a Torino a Milano questo fine ottobre e farò a San Marino un seminario a metà novembre e poi stiamo vedendo con lo staff anche del di Narni di fare qualcosa o a Narni o a Terni nell'autunno inverno del 2022 e 23 quindi la performance che farò a settembre dovrà incuriosire chi poi vorrà fare il seminario in Umbria adesso troviamo una data quindi mi sposto dove anche sento che c'è interesse dove 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 sento che la chiamata c'è ecco lo ricordo questi workshop sono sono chiusi a otto persone perché si lavora su tutti in un modo totale e specifico quello che farò domenica la mezz'ora l'unora appunto è un non è un workshop di piano mirroring è una presentazione del mio lavoro un po come oggi cercherò di ripetere queste cose un po in sintesi e incuriosirò speriamo scioccherò i presenti e lì a fare un'esperienza perché poi chiaro queste conferenze questi incontri non ti fanno sentire il potere della musica non puoi sentire è un'esperienza questo è il lavoro irrazionale femminio non lo puoi sapere prima lo devi vivere al momento quindi ecco certo dico le persone vai sul sito sulla pagina piena mirroring di facebook su youtube a vedere i video però poi resta il fatto che ci sei tu e l'esperienza e la musica è totalmente soggettiva la musica è una musa che parlerà a te e ti dirà le cose che in quel momento servono a te per cui finché non ti butti questa esperienza tutte queste sono solo belle parole però grazie perfetto io e consigli allora in questo periodo da qui a narni da qui al 16 17 settembre quali sono i consigli consigli in merito al mio lavoro beh di cosa consiglio di per avvicinarsi al mio lavoro intendi sì o consigli che tu senti quello che sta dicendo il tuo lavoro in questo periodo approcciandoti un po anche a quello che senti come richiesta delle persone è una domandona per forza il mio lavoro è intanto vieni tanto vieni perché presentati davanti all'occasione e vedi mi conosci vedi vedi le altre persone o tu stessa quindi vieni a narni vieni a torino a vedere le performance a settembre vieni a san marino insomma vieni guarda il sito e guarda gli eventi e puoi fare due cose o non ti informi su niente e vieni quindi già oggi è tanta roba o vieni casto e puro senza informazioni e ti offre l'esperienza oppure informa guarda le interviste guarda alcuni video prova a capire se c'è qualcosa che ti interessa insomma chiediti chiediti se questa cosa ti può essere utile chi ti sei bisogno ecco questo è il consiglio che oggi abbiamo bisogno probabilmente di comprendere che la gran parte dei problemi che abbiamo sì c'è il mondo esterno insomma è un momento difficile ma in realtà tutto arriva da una coscienza interna una modalità di approcciarsi internamente e se nel mio lavoro sosteniamo che il mondo esterno è specchio dell'inconscio non è che c'è una guerra per coppa tua ma la guerra ha un senso all'interno di un percorso psichico evolutivo dell'inconscio dell'essere umano quindi ecco il consiglio è stare attenti a non indicare con il dito la pagliuzza nell'occhio del mondo esterno e a non vedere la trave che abbiamo nell'occhio per trave intendo quella cosa che ci impedisce di vedere è appunto ripeto non è colpa sua colpa mia non c'è colpa c'è un dato l'invito mio è guarda che c'è un modo per contattare qualcosa di interno e da lì partire con le considerazioni poi certo il mondo esterno le guerre le pandemie hanno poi un impatto però la persona che ha incominciato a farsi delle domande internamente e e a prendere quel dito e a rivolgerlo interno quell'occhio interno queste cose le vive in un altro mondo le vive ma in un altro modo ne è meno preso e ne è meno schiavo e soprattutto si convincerà sempre meno che queste cose abbiano un vero potere su di lui quindi ecco questo è il mio consiglio insomma indicazione e attenzione a dare troppo peso al fatto che il mondo esterno stia causando la tua infelicità certo è una sofferenza che ha un'origine e va vista nelle profondità e c'è tanto da scoprire sì ma sì è veramente uno rimane sempre cioè si interroga sempre sul fatto ma è così difficile cioè poi che le persone riescono a andare oltre a sbloccarsi a essere loro stessi e a mettere molte cose di loro stessi si fa delle domande perché quando si si cerca di percorrere un un sentiero quando uno scopre che c'è qualcosa che non è certo il mondo esterno e non è certo una materia viva che è solo corpore ma c'è un pensiero c'è qualcosa e insomma questo invito che ci fai è molto importante perché purtroppo molte persone ancora non io stessa nel mio io stessa mi ci metto spesso o ci si dimentica o si demanda o si fa però sarebbe tanto facile essere se stessi nell'incontro appunto abbandonarsi alla musica no e dire va bene voglio vedere no e perché sì e accettare anche accettare queste cose e che è un primo passo poi per essere più liberi quello sicuramente e questo il canale del da quello che intuisco sicuramente il piano mirroring riesce a concedersi questo grazie mille direi questo in conclusione è una relazione tra me il mondo non è il mondo non sono io è un rapporto io mondo ma questo rapporto io mondo ecco dove c'è lo specchio quindi invito le persone a comprendere che è una relazione ora se le persone non si avvicinano a queste cose c'è un motivo e va rispettato perché non è che le persone non lo fanno perché o sono stupide o sono c'è una dimensione che ancora non permette a certe persone di andare oltre la barriera del fatto che sia il mondo c'è un motivo c'è un'autoportezione questa è l'epoca probabilmente in cui tante persone da sempre che non questa è l'epoca questa è l'epoca in cui c'è stato un acceleramento di tutte le persone che hanno colto che c'è un qualcosa di più del fatto che il mondo sia e quindi c'è una ricerca enorme ora in questa ricerca bisogna stare e questo è la seconda cosa che che voglio dire poi chiudiamo di guardare bene dove rivolgo data che data la relazione come tema fondamentale del mio stato non io o il mondo ma la relazione a questo punto c'è da capire quali sono quelle vie che possono aiutarmi al meglio e mi riguardano di più per capire questo rapporto io offro questo certo grazie bene grazie a te carlotta utilissima grazie a te ascoltato a te ecco ringrazio a tutti abbiamo il sito di piano mirroring www.pianomirroring.it facebook pagina facebook anche su instagram c'è una pagina poco battuta per ora ma pian piano verrà più frequentata ecco insomma ho trovato un sacco di informazioni se volete quindi ci vediamo poi al giorno in cui ci incontreremo sì allora arrivederci grazie mille allora prestissimo grazie